Bella ragazzi e buon anno, qui è il Cina e oggi siamo qui finalmente con un super episodio del Roll to Cina Team del nuovo anno Ho fatto delle modifiche, sono stato qui 10 minuti per pensarci un attimo Ho preso Dembélé che è molto buggato, ho venduto di AB perché uno si faceva male sempre, non so se ve lo ricordate E due Dembélé molto più forte, sia di statistiche che speriamo di bug Comunque di AB non avevo visto tutto questo bug, a parte qualche gollettino Poi, dato che Sessegnon si è infortunato e qui sotto, in pratica ho preso un sostituto, Zombià Praticamente ho speso 450, al posto di spendere 500 per il piede lo metto in riserva così almeno recupera In caso poi lo vendo, però vediamo un attimo come va questo Ero indeciso se prendere Cabella, però ho detto vabbè c'ha più fisico, è comunque costa molto di meno di Cabella Quindi tengo questo Il resto per adesso è uguale perché Varela resta sempre uno delle ale più forti Poi, vabbè, forse Ferre da cambiare, però più avanti E niente, Raffaele è bugato e gli altri, tutto il resto è bugatissimo Welbeck mi dispiace ma è super bugato, quindi non posso venderlo E questa qui è la squadra, quindi adesso abbiamo 3087 crediti Ovviamente mi sa i punti non ce li hanno dati col cavolo che ce li hanno dati Infatti guardate, con la scorsa partita e altro che ci ridanno i punti, col cavolo Quindi andiamo subito a fare questa partita Prima di incominciare passate dal sito di crediti onefifa.com Dove potete acquistare i vostri crediti FIFA 15 Applicando lo sconto Cina in minuscolo Per avere il 5% di sconto E partiamo subito ragazzi Questo qui non schiaccia X perché è fottutamente fottuto E la madonna Vabbè, ok Però non è detto ragazzi, non è detto perché Come sapete La mia squadra è buggata Scambio Varela Oddio Welbeck Welbeck 1 a 0 1 minuto e 55 Welbeck Welbeck c'è il gol Ma che cazzo piove anche Stadio del cavolo appunto il mio Comunque Welbeck, guardate il bug proprio Che culo che l'ha messa dentro Quello lì starà rosicando come la merda Che c'è la Schweinsteiger E tutti gli altri Quindi Lo sapevo Ve l'avevo detto Ve l'avevo detto È scattato Welbeck È rigore 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 Era scattato Come si chiamava Zombie A o Varela Qualcuno dei due Uno dei due è scattato lì Oddio ragazzi Mamma mia Nell'angolino Varela 2 a 0 2 a 0 Ora scopo Che cazzo fa quello lì Il violinista Ma vai sul Titanic Va Pirla Ancora Questa volta è Raphael È mia Ok 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 Ci vuole dentro Kabul Fer Fer Dembele No Vai Oddio Cosa ha fatto Welbeck Mamma mia 3 a 0 Contro questa squadra Contro questa squadra Guardate cosa ha fatto Se l'è buttata di là Poi ha fatto così un allunghino Se l'è presa E ha fatto gol Welbeck La potenza di questo giocatore È alle stelle Non puoi quittare Dai Oh Ha quittato Ha quittato Vittoria Oh questa volta me l'ha dato Me l'ha data la vittoria 14 punti Vai Dobbiamo mirare al titolo ragazzi Quindi per adesso Abbiamo Dembele nuovo 84 di valutazione Dzeko Diego Costa Uvammata Diego Di Silva Jesus Navas Sergio Busquets Mascherano Piquet Azpiriqueta Ormai li sappiamo tutti Basta Vai Welbeck Dai che ce la fai Dai che sei veloce Dribblane 1 Dribblane 1 Entra dentro Entra dentro Welbeck Welbeck La bolgia La bolgia La bolgia Welbeck 1 a 0 al dodicesimo 1 a 0 al dodicesimo Dani Welbeck Mamma mia questo giocatore Questo giocatore ragazzi Questo se ne dribbla 1 Va dentro La forza fisica E riesce a fare gol Mamma mia Oddio se ne era andato Varela Se ne era andato Oddio Mamma mia Fer Fer Che gol ha fatto ragazzi Che gol ha fatto Che gol ha fatto E la passata Gesto altruistico Mamma mia Mamma mia Questi Tiri alla Ronaldinho Fer il nuovo Ronaldinho Mamma mia Cazzo questo qua È proprio un tiro Alla Leo Messi L'ha fatto Fer Nell'angolino Dopo questo 100.000 Mi piace Ragazzi Sfondate il tasto Dei mi piace Welbeck 3 a 0 3 a 0 Mamma mia Questi inserimenti Mamma mia Questi inserimenti Ragazzi Casillas Cosa vuoi fare Cosa vuoi fare Guarda questo inserimento Guarda la forza La forza fisica Mamma mia Welbeck la piazza E Casillas Non può nulla Cos'hanno mangiato oggi Cos'hanno mangiato oggi Cos'hanno mangiato oggi Kabul Ti amo Mamma mia Begovic Grandissimo anche te Continuiamo così A supportare la squadra Vai Non mi sembra vero ragazzi È un sogno È un sogno Adesso però carica Non fare il bastardo Giuro che prendo la play E la sbatto contro il muro E poi vado da quelli della FIFA E li cago sul portone Ve lo giuro Mi sto incazzando Come una bestia Cioè rendetevi conto L'ho vinta già due volte Questa cazzo di divisione Dopo vent'anni Mi ha dato la No 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 sei un pezzo di merda Sei un pezzo di merda Non mi ha dato i punti ragazzi Cioè io Io non ho parole Non ho parole Su questa cosa Guarda Io non ho parole ragazzi Adesso facciamo la prossima partita Ma guardate Io Adesso voglio vedere Contro questa squadra Cosa faccio No perché c'è una difesa Impenetrabile Un attacco assurdo Lucas e Vabbè Cavani Lasciamolo stare Lucas e Lavezzi Cazzo Cioè sono morto In centrocampo Ramirez Fernandinho Mi infanno un culo quadro E voglio vedere A cercare di fare un gol Beffa tutti Beffa tutti Beffa tutti E va a fa culo Eh A cercare di fare un gol Eh Dai Vieni qui Vieni qui Sai il coraggio Vieni qui Tu e le tue cagate I tuoi bug Cioè qui c'è C'è Welbeck Lo sai che c'è Welbeck E c'è mila E mi piace Questo Welbeck Solo lui Tutta la squadra Eh Undicimila mi piace Top Oddio 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 ragazzi Io non ho più parole Su questi gol assurdi Dove David Luiz Fa un cacciara E possiamo ridirlo Che è un cacciarone assurdo Welbeck la piazza La piazza E non perdona Non perdona Danny Welbeck Rivediamo il replay insieme Con miliardi di mi piace Mamma mia Qui proprio non perdona La piazza È una piazzatina Altro che piccatina È una piazzatina questa Sembra un miscuro Tra spezzatino e piadina No 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 Grande Begovic Comunque veramente Begovic in queste situazioni Sta facendo l'uomo partita Ok Ragazzi è finita Andiamo a vedere un attimo Cioè Stringete veramente Cosa fa Begovic Dai Hai fatto bene tutta la partita Adesso fai il piazza No Ma no Ma non è possibile Non è possibile Io non capisco il perché Non capisco il motivo È già la settima volta Abbiamo fatto la prima partita Che mi ha dato i punti Stranamente No Però adesso ragazzi Va bene tutto Però io Per continuare Per continuare Rottucinati Ma almeno Devo inviarmi Ho 900 Quasi Mille crediti Perché ho fatto Due partite Vabbè Lasciando stare quelle dell'altra volta Ho fatto due partite oggi Che erano almeno 430 500 crediti Ciascuno Quindi in pratica Devo almeno Prendermi dall'altro account Mille crediti Quindi se siete d'accordo Li prendo Perché Non è possibile Che non mi dia mai crediti E non si può andare avanti Cioè a questo punto Avevo già 5000 crediti Raga Cioè che cazzo È sta cosa Vabbè Comunque Noi abbiamo vinto Tutte e tre le partite Avete visto Che questa squadra Rottucinati Sta diventando Una squadra della Madonna Sta spaccando i culi A tutti Con Welbeck Varela Tutti questi qua Vabbè Se volete farvela Ovviamente La squadra è qua Magari qualcuno Se l'è già fatta Lasciate miliardi Di mi piace Buon 2015 A tutti Un saluto dal Cine E al prossimo video Ovvero sabato ragazzi Bella lì Bella Bella Ciao